Ok, ricominciamo. 5, 7, dalle respirazioni, hop, allunga, vai, hop, giù, 5, al centro, 1, 2, 5, 7, giù di molleggia, hop, 3, 4, 2, up and down, up, tocca al pavimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani giù di molleggia, hop, 5, 6, una gamba dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, rimani in plan, 5, 6, ritorna una gamba alla volta, resta, 5, 6, da capo, su e giù, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani giù, hop, hop, 3, 4, una gamba alla volta, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani in plan, 5, 6, ritorna con una gamba, respira, step touch, spero vada tutto bene, ho dovuto ricominciare la diretta, ok, perfetto, adesso, abbiamo poco spazio a casa, ma ci possiamo muovere facendo step touch, giusto, vado in piaconate, sollevo un ginocchio, go, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado con i remiters, go, hop, allontana più possibile la gamba, 2, 3, 4, pronta a cambiare il lato, 5, 6, cambio il lato, e 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, rimani in molleggia, non stendere la gamba di terra, 2, 3, 4, 5, 6, cambio il lato, occhi, ci siamo, tutto con la gamba che si stende dietro, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani in molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, stand up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani in molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani in molleggia, vai, 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 vai a mollare, 2, il ginocchio non si muove, solo la gamba che si piega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio il lato, occhi, tutto con l'altra gamba, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani, 1, 2, 3, 4, 5, 3 4 2 La zappa Ottimo Adesso Avanti Lavoro con la gamba destra Porto avanti la sinistra per la spogna Ginocchio che sale Sale su Arriva fino alla mano E scende dietro Ok? Il ginocchio sottosfiera il movimento 2 1 2 3 4 5 6 7 8 rimani giù 8 7 6 5 4 3 Rimani 8 7 6 5 4 3 Da capo 1 Giù 2 Giù 3 4 4 5 5 6 7 8 Giù e molleggia 1 2 5 6 Rimani 8 7 6 5 4 3 Da capo 2 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 7 8 5 Cambio gamba 5 6 6 5 7 8 7 8 8 8 8 8 9 Let's go 1 2 3 4 5 6 6 7 7 1 5 5 6 4 5 4 7 6 5 4 3 Da capo sali su 1 2 3 4 5 6 6 6 7 6 7 5 5 4 3 Resta Di nuovo! Sul ginocchio vai! 1 2 3 4 5 6 7 5 5 6 7 5 7 5 5 7 Leg Ok, ottima! Bene! Iniziamo a fare i nostri squat! Piccola! Piccola super! Ok? 1 2 3 4 5 6 7 6 7 Ancora! 1 2 3 4 5 6 6 7 5 6 5 6 6 7 8 7 8 6 5 4 3 2 5 6 5 6 7 7 8 8 8 9 12 12 12 12 13 14 12 15 15 15 16 17 18 18 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 32 32 32 33 33 32 34 34 36 36 37 37 38 38 Indovinate che cosa faremo? Addominali Io ho sudato un po' Dunque, prima di mangiare ci si apparecchia Come lo dico sempre, non fa male Fabio Quindi prima andiamo a fare una bella plank, ok? Siete pronti? Due Tre Quattro Stacca una gamba La stessa cosa con l'altra Torna Di lato Mano dietro la nuca Scendo e salgo Uno Su Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Torna Dall'altro lato Pronti? Via Giù Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Torna Cinque Sei Stop Ottimo Bene Adesso possiamo andare a fare un po' L'addome esantice e esantice Come dice allora Posizione supina Ok Gamba destra incrociata Per tre volte Tre volte otto Sali Cadrò sul piede E vado a fare i miei laterali Torno Di nuovo tre volte otto L'altro lato Tre volte otto Ritorno Ritorno Per cambiare la gamba Ok Pronti? Vai Veloce Dove Dove Tre' Cado sul lato, uno Due Tre Torno al centro, uno Due Tre Cado sul ginocchio, vai, uno Due Tre Torno al centro, vai, uno Due Tre Cambio la gamba, uno Due 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 Cado sul ginocchio, uno Due 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 Non fa male 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 5, 6, una gamba sola, lasciala a destra, 2, cambia gamba, 2, 5, 6, stop, ottimo, l'abbiamo sentiti? Non fa male, ok, l'ultimo esercizio per i glutei, torniamo, l'esercizio più vecchio del mondo, mi metto un altro profilo, così insieme tutta la gamba, ok, in quadrupedia possiamo andare sui domini, porto la gamba a fressa, da qui molleggia, dal ginocchio in su, ok, go, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scende il ginocchio, 1, su, 2, 4, 5, 6, 7, fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, con l'altra gamba la stessa cosa, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Stendi 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scendi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i cuori, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, di volta, Allora ragazzi, tanto passiamo la musica, bene, per oggi ci siamo, Vi ricordo che dopo ogni allenamento, da soli dedicatevi il giusto tempo anche per allungare i muscoli che hanno lavorato, ok? Io vi aspetto venerdì per la lezione di cardio dance, Francesca me lo devi dire domani, grazie, se domani si sente, e bene, sono contenta di rivedervi, anche virtualmente, vi mando un grosso bacio e vi aspetto quindi venerdì, ok? Adesso andate a fare stretching, ciao! Grazie Monica!